Come ha avuto il numero? Mi hanno detto che lei può risolvere i problemi. Non sapevo che esistesse gente come lei. Non esiste. Non ci sono altri come me. Chi è lei? Sono qui per il suo problema. Chi ti ha chiamato? Che figlio. Allora, abbiamo chiaramente un problema. L'unica soluzione è che voi due lavoriate insieme. No. Non lavoro così. Non lavoro così. Sarà una lunga notte. Da quanto tempo siete soci? Vestiti uguali, parlati uguali. Allora? Siete tipo uguali. Non siamo soci. Ci sono persone in giro che se sospettassero che so quello che lui sa... E che io so quello che lui sa. Ci farebbero uccidere all'istante. Come? Fermalo! Allora siete soci occulti. Non siamo soci occulti. Un'amore dei santi. Senti.